Siamo in Alta Valmarecchia, puntuale come da previsioni è arrivata la prima neve. In tutta la provincia di Rimini da questa mattina sta abbondantemente nevicando. L'Alta Valmarecchia, come potete vedere, è già ricoperta da un leggero manto di neve. Il ricordo va inevitabilmente al nevone di febbraio e la nevicata di oggi per alcuni non può che incutere anche timore, ma il pensiero di una nuova emergenza di contro c'è lo spettacolo del paesaggio imbiancato. Secondo le previsioni, fino alla mattinata di domani, le nevicate interesseranno soprattutto i territori della Romagna, con accumuli di 10 cm in pianura e di 20 cm attorno ai 300 metri sul livello del mare. L'allerta cesserà alle 13 di domenica 9 dicembre.